Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. Molti di voi avranno sicuramente visto il film tratto da questo libro uscito su Netflix qualche tempo fa, ma come spesso accade, secondo me il libro è proprio un'altra cosa, ma tutta un'altra cosa. Il libro è un'altra cosa. La vita davanti a sé di Romain Garry è ormai un classico della letteratura francese del Novecento, ambientato a Parigi negli anni Settanta nel quartiere di Belleville, che qualche decennio più tardi ospiterà anche la famosa famiglia Malossenne di Daniel Penac, è la storia di Mohamed, detto Momo, un bambino arabo-algerino. Ed è proprio forse questo il punto di forza, uno dei punti di forza della storia del romanzo. La narrazione in prima persona, la lingua semplice, la lingua spontanea, ma al tempo stesso la profondità di pensiero di un bambino che la vita ha reso adulto forse troppo in fretta. All'inizio non lo sapevo di essere senza madre e non sapevo nemmeno che ce ne volesse una. Madame Rosa evitava di parlarne per non darmi dei pensieri. Non lo so perché sono nato e come sia successo esattamente. Da noi c'erano parecchie madri che venivano una o due volte la settimana, ma sempre per gli altri. Da Madame Rosa eravamo quasi tutti figli di puttane. Quando andavano per qualche mese a battere in provincia, venivano a trovare i loro marmocchi, prima e dopo. Momo dunque è proprio un figlio di... insomma, e non in senso figurato. Vive da Madame Rosa, questa anziana ormai malandata, vecchia prostituta, che ospita piccoli figli di prostitute dietro pagamento di una retta mensile che, insomma, non saprebbero se no dove andare. La sua casa è un crocevia di etnie, di colori, di gente, di gente che i benpensanti qualificherebbero persone di malaffare, ma di certo dotati di una grande umanità. E proprio questi personaggi indimenticabili, il personaggio di Momo, di Madame Rosa, di Madame Lola, il pugile travestito che si prostituisce al Bois de Boulogne, ci ricorderanno, ricorderanno ai nostri alunni, ricorderanno anche a noi che il bianco spesse volte è il nero che si nasconde e il nero, certe volte, è il bianco che si è fatto incastrare. Bene, non mi resta che ringraziarvi come sempre e mi raccomando, veniteci a trovare sempre sul nostro sito web e sui nostri canali social.